La Polonia sta assumendo un'importanza inedita in passato all'interno del dibattito politico e sociale dell'Unione Europea. Per questo secondo me ci sono soprattutto quattro motivi. Prima di tutto ricordiamo che la Polonia è un grande paese con quasi 40 milioni di abitanti ed è il settimo paese per PIL all'interno dell'Unione Europea. Quattro i motivi secondo me per i quali bisogna stare molto attenti a quello che sta succedendo in Polonia. Prima di tutto la questione sullo Stato di diritto. Ricordiamo che lo Stato di diritto è uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea, così come di ogni democrazia occidentale. Questo perché ne difende il funzionamento, ad esempio difendendo i poteri all'interno di una democrazia come quello politico e quello della magistratura. La Corte di Giustizia Europea ha più volte condannato il governo di Varsavia per interferenze nei confronti della magistratura polacca. Si parla ad esempio della possibilità di distaccare determinati giudici magistrati e tanto altro. Tutte azioni che fanno temere a Bruxelles la possibilità di un controllo politico della magistratura del paese. Una situazione secondo la Corte di Giustizia Europea così preoccupante che ha stabilito, pensate, una multa da un milione di euro al giorno per ogni giorno in cui Varsavia non rimetterà a posto la situazione. Poi c'è la questione immigrazione. Ricordiamo che Varsavia è sempre stata contro ogni tipo di accoglienza di extracomunitari all'interno dell'Unione Europea. Si è opposta ad esempio al sistema delle quote di ridistribuzione di migranti proposta dalla Commissione Europea e oggi sta picchiando duro nei confronti dei migranti che stanno cercando di entrare all'interno dell'Unione Europea passando dalla Bielorussia. Poi la legge sull'aborto. Sostanzialmente ad oggi in Polonia è proibito abortire anche in caso di malformazione del feto ad esempio. Una pratica permessa soltanto in caso di stupro, incesto o pericolo di vita della donna. Il risultato è che tante donne polacche cercano di abortire illegalmente mettendo in questo caso veramente a rischio la propria vita. Senza dimenticare che il diritto di aborto è una delle conquiste più importanti ottenute dalle donne nelle democrazie occidentali dell'ultimo secolo. Infine la piega nazionalista che il partito di governo del presidente Morawiecki sta prendendo in Polonia. Un sovranismo molto spinto, molto conservatore che lo sta spingendo verso una possibile alleanza con altri movimenti sovranisti di altri paesi europei come il Rassemblement National di Marine Le Pen in Francia, la Lega di Matteo Salvini in Italia e il partito Fidesz di Viktor Orban in Ungheria. Insomma una miscela esplosiva diciamo che attira l'attenzione su questo paese e che ha fatto parlare alcuni critici addirittura di possibile polexit, ovvero di l'uscita della Polonia dall'Unione Europea. Un'eventualità secondo me molto molto difficile perché ad oggi la Polonia ha tutto l'interesse nel restare all'interno dell'Unione Europea, prima di tutto perché è il paese che nel corso degli anni ha ricevuto e riceve più fondi europei di tutti e secondo perché è un paese che beneficia del far parte del mercato unico per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, la delocalizzazione di tantissime industrie che hanno appunto riaperto in Polonia e tanto altro. Insomma un interesse più economico e commerciale che sociale e basato sui valori diciamo. Ecco quindi che secondo me un'attenzione particolare va prestata a questo paese e a come evolverà nel corso degli anni. Un paese laboratorio di tante dinamiche sociali, politiche ed economiche che potrebbero un giorno verificarsi anche in Italia e in altri paesi europei.